Al paticchi di Amelia per la tredicesima giornata del girone B di promozione Umbra, sotto la direzione del signor Mardaro di Foligno e dei suoi assistenti Papa Pietro e Foglietta di Foligno, scendono in campo a Merina e Olimpia Tiros San Valentino Farini. La Merina si porta subito in attacco rendendosi pericolosa con Cirillo al terzo che tira dal limite mandando la palla alta sopra la traversa. Lo stesso Cirillo al quindicesimo mette la palla in mezzo per Leonardo che non ci arriva. Iavarà al ventesimo lancia in aria Boetto ma Pinsaglia riesce ad anticiparlo e di testa a passare la palla a Paolucci. Lo Russa al ventitreesimo in aria riesce a passare la palla a Sugoni che ci prova mandandola alta sopra la traversa. Agostini al venticinquesimo la mette in mezzo dove pesca Cianchetta che fa la sponta per Boetto che di testa la infila in rete per il vantaggio dell'Olimpia. Sugoni al ventinuesimo mette la palla in aria con Pinsaglia che intercetta la palla che finisce a Cianchetta che sfiora il palo alla destra di Paolucci. Leonardo al trentunesimo triangola con Cirillo portandosi in aria dove trova De Vivo sulla traiettoria che respinge la palla. Cirillo al trentatreesimo mette la palla in mezzo dove ci arriva Leonardo che la manda alta sopra la traversa. Yavarà al trentacinquesimo di testa vede libero Agostini al limite dell'aria che si gira al volo sfiorando la traversa. De Vivo al quinto da punizione mette la palla in mezzo ma Pinsaglia riesce ad anticipare Yavarà deviando in angolo. Sugoni al trentesimo entra in aria dove vede Tavoloni libero che la passa in mezzo e dove ci arriva Bartoli che colpisce la traversa. La punizione di Agostini al diciottesimo dopo aver rimbalzato in aria finisce direttamente tra le mani di Paolucci. La Merina prova ad alzare il ritmo del gioco. Cirillo al ventiquattresimo la punizione la mette in aria dove Nulli Costantini non ci arriva e Ciliani non trova la rivezione vincente in rete. Cirillo al ventinoesimo la calcio d'angolo la mette di nuovo in mezzo con Ciliani che non ci arriva neanche questa volta. Pinsaglia al trentatreesimo mette la palla in aria dove Ciliani la rigira a Leonardi che dopo aver saltato con Dito e De Vivo la infila in rete per il pareggio della Merina. Cianchetta al quarantesimo recupera la palla con Sugoni che si gira al volo sfiorando il palo alla sinistra di Paolucci. Rosati al quarantunesimo mette la palla in mezzo con Agostini che la rigira di Avarà che colpisce la traversa con la palla che ritorna in gioco ma il signor Mardare ferma tutto per offside di Tavoloni. Buonasera a tutti. Il mio punto di vista sulla partita di oggi penso che alla fine il pareggio sia un risultato giusto anche se noi sapevamo di giocare contro una grandissima squadra con soprattutto tanta qualità però alla fine siamo riusciti a fare questo con Leonardo e siamo felicissimi per questo risultato raggiunto. Buonasera, salve. Una partita diciamo giocata su un campo abbastanza difficile. Abbiamo tenuto bene la partita, il Mistral ha messo una bella squadra in campo, preso un gol su una distrazione difensiva, su un'incomprensione propria. Sono un po' rammaricato perché potevamo portare a casa tre punti, sì, sinceramente un po' rammaricato sì lo sono. Bella prestazione dei ragazzi come sempre, danno sempre il massimo in campo quindi nulla da dire ai ragazzi, anzi, io personalmente gli faccio sempre i miei più grandi complimenti e speriamo che iniziamo a sfadare questa lunga serie di pareggi quindi sono fiducioso. Grazie, buonasera.